Mister Zaini, un risultato di parità che alla fine come si era messo la partita penso possa andare bene? Sicuramente sì, per come si era messa e in altri tempi l'avremmo persa forse questa partita, come già c'era capitato. I ragazzi hanno reagito bene, abbiamo commesso un errore e credo che questo errore ci può stare perché sono peccati di gioventù, come continuo a dire. Noi sapevamo che era una sofferenza giocare contro l'Urbania perché l'Urbania è una squadra organizzata, è una società che sa soffrire, una squadra che sa soffrire, una squadra che sa lottare, ha degli ottimi elementi davanti. Quindi sono contento perché c'è stata una pressione continua, 10 calcio d'angoli battuti, abbiamo tirato 10 volte in porta, 4 da fuori aria. C'è stata una grande pressione, ho visto la voglia e la volontà di comunque ribaldare la gara. Io sapevo che dobbiamo svolgere un campionato di questo genere, come avevo detto all'inizio, lo stiamo facendo, lo facciamo con soddisfazione perché riprendere certe partite vuol dire che stiamo crescendo e migliorando. E non ci dimentichiamo che abbiamo chiuso la partita con credo 3-2 mila e mezzo al campo, tanti ragazzi di Tolentino, insomma stiamo lavorando per fare quello che la società a inizio anno ha cercato di chiedermi e io continuo a farlo. Mister Fucili, Tolentino-Urbani è una partita che dura fino all'ultimo istante, questo oggi lo è stato ugualmente, l'Urbani è rimessa oltre a passare a vantaggio è entrata vicina anche alla doppia e poi il risultato di parità alla fine penso che accontente a tutti. Sì, sì, sul discorso generale è che il pareggio penso che sia giusto visto l'andamento della gara. Chiaramente come ha detto lei nella situazione cruciale della partita noi abbiamo avuto un paio di situazioni abbastanza importanti di uno contro il portiere dove dovevamo chiudere la partita. Però bisogna poi analizzare i 90 minuti, il Tolentino sapevamo che avrebbe fatto la partita anche perché sono le loro caratteristiche, noi abbiamo cercato così di limitarli e sfruttare le nostre. Ci eravamo riusciti creando anche oggi buone situazioni da gol, stiamo così concretizzando meno di quello che facciamo però sarei stupido a dire che non sono contento. L'importante è uscire dal Tolentino con un punto perlomeno utile e continuare la serie positiva che oramai inizia dall'inizio del campionato. Sei pareggio in una vittoria? Sì, come ho sempre detto stiamo spendendo tanto e magari con i pareggi non si va lontano però poi ogni partita va analizzata a sé e anche questa penso che il punto ce lo siamo strameritato. Tra l'altro avevamo anche qualche defezione soprattutto a centrocampo, abbiamo giocato con dei fuori quota che erano quasi all'esordio stagionale. Quindi venire a Tolentino su uno stadio così importante da questo punto di vista penso che abbiamo fatto bene, c'è un po' questo rammarico però ripeto il Tolentino ha fatto lo stesso, una gran bella partita.